andiamo verso il neg si poi ti do il casco e mi filmi tu qualche volta la città è la città dobbiamo andare di là vai tu davanti che ti filmo così dritto un po' qua Manu un po' 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 di qua si va a riffa d'alpa si può andare a Gantt o a prendere questa seggiovia che sale dall'altra parte preferisci a Gantt e giù di là e arrivi lì mentre se vai giù qui sotto arrivi a quelle case lì più in basso dove preferisci andare che poi da lì su neg ed è uguale ma e da lì sotto cosa c'è c'è una seggiovia che ti porta là non la vedo rimane sotto e dove parte anche la funeria per andare non so come si chiama si chiama non so come si chiama non so come si chiama si chiama non so come 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 si chiama